Musica Ciao a tutti ragazzi, questo è sempre il vostro Blacky Samaroth che parla benvenuti in quest'altro mio nuovissimo video di apertura e oggi vi porto due pacchetti di Pokémon XY Fuoco Infernale allora, prima di iniziare volevo dirvi che questo video è per il contest del mio grandissimo Prog Pokeshire quindi niente, vi consiglio di guardare il video in 1080p, quindi cliccate questa rotellina qui sotto e mettete in HD 1080p e niente, quindi mettete tantissimi pollici in su e se vi è piaciuto direi subito di iniziare con l'apertura allora, il video non può essere più di 5 minuti e quindi io mi perdo molto in chiacchiere, diciamo, e quindi vi porto solo due pacchetti ma iniziamo, se no qui non ci muovemo più allora, abbiamo il fantastico fogliettino di Lugio davvero bello non faceva aperture da moltissimo andiamo con il grandissimo Mega Charizard XX niente, pacchetto di Pyroar speriamo di trovarci qualcosa perché diciamo, ho scelto questi due pacchetti anche perché se seguite il mio canale saprete che ci ho trovato l'altra volta due X comunque, pacchetto praticamente sfasciato il codice che vi do ok trick e direi di mettere l'aria a terra abbiamo a detta del centro Pokémon e questa Poké Shiny la capirà se soltanto mettesse a fuoco ok, ho messo a fuoco quindi a detta del centro Pokémon Roserade bella uh, Metapod 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 Binacle Sfiel la piccola foca Caterpie il bruco Buneri Weasel uh, Avalug ah, non come una reverse molto bello, mi piace e la rara è dai 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 uh, Florge solo ragazzi non ci crederete ma questa è si mette a fuoco ok è la mia eh, seconda Olo di tutti i set X e Y perché ci ho trovato orare o X la prima X la prima Olo è stata Greninja cioè ho più X che Olo di questi set davvero una cosa impressionante quindi passiamo subito con il secondo pacchetto sempre uguale il foghiettino allora cerchiamo di salvarlo eh perché no shit vabbè allora vi do anche questo codice mi raccomando tanti pollici inzu ok credo si veda oh oh che cazzo oh che cazzo mi si è attaccato il foghiettino al braccio lol quindi trick non la metto la terra a terra di nuovo ha detto nel centro pokemon non ci credo poi Dusclops Nusleaf Nusleaf Espur Binacle Sfeo Caterpie semmeno le carte quelle e quelle di prima Boneri di nuovo oh Elisio Reverse ottimo naturalmente quando trovo una carta buona si leva il fuoco ok e la rara è uno scrafti raro che sarebbe tipo il terzo che trovo e va bene comunque queste carte se volete le scambio anche Florges perché questo set non credo che lo completerò quindi ragazzi questo video finisce qui è durato già 4 minuti ora il mio ora Pokeshiny si arrabbierà quindi vi raccomando tanti pollici in su non mettete dislike altrimenti arriva Pokeshiny a casa vostra e vi da tanti box in faccia però poi se li metterà per lui ve li darà solo in faccia e quindi vi raccomando ripeto pollici in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti sia il mio che quello di Pokeshiny e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi